In questo momento l'Università sta facendo molto bene come sta facendo bene il Napoli, il Cagliari, l'Iventus perché dopo due partite sono a punteggio pieno. Non hanno subito gol, è una squadra che ha giocatori di buona e ottima qualità ha di Natale ancora che imperversa a fare gol e quindi è una partita dove bisogna stare molto attenti e soprattutto far salire l'attenzione perché soprattutto in questo momento abbiamo visto che paghiamo subito al primo errore o alla prima occasione del gol. Lo valuterò oggi, Pippo sta molto meglio, ieri ha fatto allenamento con la squadra l'ha fatto anche l'altro giorno, però è una valutazione che dovrò fare oggi prima di andare a rischiare nuovamente. Credo che abbiamo commesso degli errori in queste due partite come invece magari a Barcellona abbiamo fatto una partita difensiva però l'ha fatta molto bene anche se nei primi 25 minuti abbiamo fatto molto bene anche in una fase offensiva. In questo momento sicuramente le cose non vanno molto bene e se non vanno molto bene dipende molto da noi e quindi in questo momento bisogna far salire l'attenzione bisogna lavorare un po' più come squadra e bisogna capire che per riottenere e confermare quello che l'anno scorso abbiamo fatto sul campo. Non basta essere a parole favoriti ma poi dopo bisogna guadagnarcelo. In generale soluzioni al momento visto anche il numero di giocatori che ho a disposizione ce ne sono tantissime perché ho moltissimi difensori, pochi centrocampisti e pochissimi attaccanti. Però valuterò oggi dopo l'allenamento sicuramente davanti Giocapate Cassano. che a Napoli nonostante che siano stati anche criticati hanno fatto una buona partita e questo deve essere da stimolo per loro a cercare di far meglio domani sera.